ciao a tutti ragazzi da MarcelloGaming68 ragazzi sono tornato nel canale precisamente per portarvi questa bellissima nuova serie che ho appena aperto nel farm simulator chiaramente nella mappa la The Hills of Slovenia ragazzi questa bellissima mappa questa bellissima farm ricavata nelle colline della Slovenia abbiamo fatto il primo episodio dove insomma c'è stata una piccola presentazione della mappa c'è stato un piccolo chiarimento di come io avrei voluto fare la mappa di come avrei voluto portare avanti questa nuova serie avevamo venduto tutti i mezzi del salvataggio avevo iniziato a portare un po' di mezzi qualcosina avevamo vista nel primo episodio oggi ho aggiunto altri due mezzi che sarebbe questo bellissimo cassone piccolino cassone da fieno e il nostro ranghinatore questi sono gli ultimi due attrezzature che ho aggiunto ultimamente cosa andremo a fare oggi ragazzi oggi andremo a fare il primo taglio d'erba visto è considerato che abbiamo questi due campetti a disposizione questi sono i nostri l'uno e il due qui avevamo provato la nostra falciatrice che oggi andremo a lavorare proprio con quella e tagliando quest'erba tagliando quest'erba andrò a usufruire della nostra trincea posta vicina alla stalla delle mucche eccola qua ragazzi ma non per le mucche non andrò a fare insilato con le mucche ma bensì per venderlo cerchiamo di crearci cercherò di creare una risorsa per avere un po di soldino a disposizione vendendo l'insilata approfittando di questi due campi d'erba stiamo al secondo episodio ragazzi cerchiamo subito un attimino di portare sempre soldini perché dobbiamo comunque comprare ancora della roba dobbiamo sistemare un silo eccetera eccetera dunque oggi andremo a fare il primo taglio d'erba e con quest'erba qua approfitterò per chiaramente trasformare la nostra erba in pura e poi di conseguenza fermentazione per avere un insilato da vendita ecco ragazzi chiaramente visto e considerato che ne approfittiamo ho avuto questa idea di portare questa nuova serie presentandola un po' come diciamo il vecchio contadino il contadino di una volta i nostri nonni che lavoravano le terre i nostri antenati come lavorano una volta le terre ecco volevo fare una serie così chiaramente chiedo il vostro aiuto chiaramente se ci avete consigliato a darmi benvenuto io accetto tutto intanto vi ringrazio per le visualizzazioni ho visto che la cosa vi è piaciuta perché le visualizzazioni sono tante e ho notato addirittura delle nuove iscrizioni nel canale ragazzi vi ringrazio di cuore questo mi fa molto piacere vuol dire che quello che sto portando vi ha fatto molto piacere anche a voi ok ragazzi non mi perdo in chiacchiere ci organizziamo subito e andremo a fare il nostro lavoro la chiaramente ragazzi ci prendiamo il nostro fiat 1300 bellissimo come vedete ho cambiato anche l'omino già ho dato l'ho vestito un attimino come l'hanno un po' il contadino una volta no col berrettino così i jeans gli schivali come si usava un po' una volta diciamola chiaramente manche copie siamo nel mezzo di agosto poi man mano che avrebbero i mesi andremo un attimino a vestirlo o a sfogliarlo un po' il mese che si toccano allora ragazzi dobbiamo organizzarci per il taglio dell'erba chiaramente andrò a usare questa falciatrice bellissima questa spettacolare falciatrice che è è vabbè marchiata lisa perché probabilmente quasi sicuramente la giant non c'ha le licenze e la nostra falciatrice l'unica sigla che vi posso dare è la ghc avare ecco però come vedete è marchiata lisa poi andrò a fare una ricerca su internet per darvi qualche notizia per vedere un attimo da dove arriva non penso che sia italiana però potrebbe anche essere comunque andrò a fare una ricerca su internet e poi vi dare qualche notizia quelle bellissime le ruote che ho date e a svelte la lama che c'è sotto una volta che siamo in campo andremo a vedere la lavorazione qualcosina che avevo mostrato anche nel primo gameplay che avevo fatto è uno spettacolo veramente ecco io amo portare queste cose vecchie queste cose old insomma quello che si faceva una volta che faceva una volta il vecchio contadino allora ragazzi ci mettiamo qua in questi campi andiamo a posizionarci per portare avanti il nostro taglio ecco io andrò a fare prima tutto il bordo e poi taglieremo il campo in due ecco qua la lama a posto in pratica la lama viene azionata dal movimento delle ruote avere una serie di cinghiaggi carvano e mano a mano che le ruote girano trasmettono il movimento diciamo il carvano che è attaccato alla lama e via e si taglia la nostra eroe uno spettacolo ragazzi veramente uno spettacolo ecco adesso piano piano io andrò a farmi tutto il campo pian pianino vedo che taglia anche ragazzi non risparma niente taglia anche i cespugi sto vedendo chiaramente cerco di tagliare il più possibile perché così portiamo molta più roba a casa ok andiamo di costeggiare ecco anche il nostro recinto pian pianino cerchiamo di fare tutto ragazzi chiaramente dobbiamo stare attenti al traffico perché sennò rischiamo di fare un bel incidente non mi sembra il caso ecco qua appunto al lato del traffico si è presentata subito la macchina vengono anche belle spedite ragazzi come vedrete anche belle spedite ecco io chiaramente ragazzi dove posso tagliare dove mi dà la possibilità di tagliare cerco di andare avanti poi vediamo un attimino ok come vedrete lavora benissimo non perde ecco qua ci dice che il terreno non è nostro dunque dobbiamo stringere un attimino ragazzi vediamo un po se riesco ad andare qua ecco secondo dove passiamo ci dice subito che il terreno non è nostro però va a niente noi chiaramente cerchiamo di stare nel nostro terreno ok adesso cerchiamo di riprendere la striscia ok perfetto andiamo ragazzi e continuiamo a fare il nostro lavoro eccoci qua ragazzi uno spettacolo veramente allora ragazzi io l'unica cosa che vi posso dire che in pratica questo lo trovate nelle falciatrici però se poi andate a vedere la mod se andate a vedere la mod e traducete in italiano c'è scritto che questo rientra nella categoria dei del cespugliatori in pratica ragazzi in effetti la lama che c'ha sotto è più o meno come quella del cespugliatore però la trovate nella categoria falciatrici perché comunque falcia l'erba ci può anche stare ragazzi però è veramente uno spettacolo ragazzi ecco io volevo portarvi qualcosa del genere per andare a vivere un po' veramente i vecchi tempi i lavori che facevano i nostri nonni ecco riportare un attimino la ribalta ragazzi eccoci qua facciamo ancora un giro vediamo se riuscito a fare ancora sì sì dai così andiamo a pareggiare con quella striscia che avevamo fatto la volta per farvi vedere giusto il taglio ecco la cosa importante ragazzi come le prime puntate i primi gameplay vado proprio a organizzarmi a organizzarmi un po' di insilato per avere un po' di soldini così quando andiamo a vendere faremo un po' di soldini e andremo avanti a comprarci un po' di attrezzature perché non abbiamo finito ragazzi non abbiamo finito ci manca il silos che già qualcosina ha trovato sempre stile old insomma sto andando a cercare come vi avevo annunciato nel primo episodio sto andando a cercare tutto quello che può fare al caso nostro che può fare per questa nuova serie che ho avuto l'intenzione di portarvi che vi sto portando ecco io direi a sto punto di tagliarlo dai lo tagliamo ragazzi in modo che così andiamo avanti come avevamo programmato chiaramente ragazzi devo portarvi quello che il modab mi permette vi ricordo che il gioco sempre momentaneamente da console di conseguenza allora io devo cercare di girarmi e qua siamo nel capezzale tra l'altro anche vicino alla strada allora facciamo così facciamo così così non lo sentiamo matti va ok ecco vi dicevo ragazzi chiaramente là dove il modab mi permette di portarvi attrezzature old insomma è chiaro che momentaneamente sono ancora da console e dunque chiaramente devo attenermi a quello che il modab ci permette poi quando passerò a pc chiaramente andrò a cercare veramente l'impossibile ragazzi io sono un amante dell'old ok è piccola qualche piccola manovra ma non ci costa niente tanto via ci riparto ragazzi ecco io sono realizzato ragazzi ogni tanto è bello vedere anche questi mesi e queste attrezzature in lavorazione ecco perché ho scelto di portarvi una carriera simile qualcuno di voi mi ha scritto ma cioè bellissima la mappa ma molto piccola eh sì molto piccola io sono venuto qua apposta proprio per il semplice motivo che portando insomma alla ribalta un po' i nostri nonni i nostri antenati si parlava di una pazza un appezzamento di terra si parlava di piccole cose non come siamo abituati a vedere oggi queste grandi distese questi grandi campi chiaramente i tempi sono cambiati ragazzi io portandovi una sedia così chiaramente sono andato a scegliere appositamente questa mappa perché riporta terreni piccoli e chiaramente possiamo insomma riportare quello che facevano una volta i nostri nonni ecco ecco io per quello che sono andato a scegliere sta mappa qua perché prima gli appezzamenti erano piccoli come si dice no ogni non aveva un pezzo di terra un fazzoletto di terra e da lì ricavava tutto quello che poteva per avere la possibilità di vivere per avere la possibilità di andare avanti insomma e portare avanti la stessa famiglia poi chiaramente piano piano se le cose ingranavano si comprava un altro fazzoletto di terra e così via ragazzi insomma all'inizio penso che fossero tempi duri poi quegli anni lì insomma è chiaro che c'erano piccoli terreni c'erano piccole cose non come siamo abituati a vedere oggi ecco perché ho scelto questa mappa ragazzi proprio per cercare di rispecchiare un po quel periodo di quegli anni lì per quel motivo qua ho scelto questa mappa ragazzi ok ci giriamo un attimo Pias riparte ok andiamo a tagliare tutto il nostro campo comunque stiamo facendo un bel lavoro vedo che lavora tranquilla chiaramente essendo attrezzatura così piccola ragazzi i tempi si allungano però insomma non è un problema perché se non si riesce a fare non facciamo danni se non si riesce a fare in un game play ne andrò a fare due così via insomma cerchiamo di viverla questa nuova serie ragazzi senza fretta senza niente io volevo finire sto parte di campo in modo che poi ci dedichiamo ecco terzata faccio un po fatica e così ci finiamo almeno una parte di campo raga e così ci finiamo almeno una parte di campo raga ok dai questo bene o male l'abbiamo fatto adesso ci dedichiamo all'altra parte poi andrò a ranghinare chiaramente ragazzi e poi ci sarà la raccolta ok via anche il sound del nostro fiat ragazzi non scherza niente è bellissimo veramente ecco ragazzi poi chiaramente dovrò andare a prendere qualche altro trattore almeno un altro ce lo compriamo ecco magari io vi chiedo se avete voglia di darmi qualche consiglio chiaramente ragazzi trattori se riusciamo italiani trattori d'epoca trattori datati non saltate fuori con mega giondia no ragazzi assolutamente no sto cercando di acchiappare questi due ciuffetti vediamo se riesco a capire perché chiaramente dobbiamo portare via tutto ragazzi ecco se avete voglia di dirmi anche voi un trattore chiaramente io veramente se mi date qualcosa di positivo chiaramente vi accontento ragazzi lo vado a comprare però insomma è chiaro che ragazzi dobbiamo sempre tenerci alla sede che sto portando come l'abbiamo impostata e tutto quanto ecco intendo trattori tipo quello che sto usando adesso ragazzi se poi è di brand italiano ancora meglio ragazzi ancora meglio adesso ci finiamo sto pezzo eh ho notato che se mi allargo poco poco mi lascio subito i ciuffetti però dai ci sta ecco poi la cosa fantastica di questa mappa che è tutta in pendenza ragazzi dunque si sente anche un attimino lo sforzo dei mezzi e questa è una cosa meravigliosa ragazzi voi mi direte se non rompi i balle perché stai a guardare queste cose e io le guardo ragazzi io le guardo queste cose qua eh le pendenze lo sforzo dei trattori le animazioni dei mezzi insomma sono tutte quelle quelle affinità quelle cose che fanno la differenza su questo gioco ragazzi io ho lasciato due ciuffetti qua riusciamo a portarvi via vediamo un po' ok no non voglio andare in mezzo alla strada non ci penso neanche raga mezzo alla strada no ne stiamo dentro casa nostra anche perché ripeto ci vedo che passano belli spediti dunque non mi sembra il caso di andare in mezzo alla strada ok buona giriamo prendiamo sto ciuffettino qua e scendiamo giù via eccoci qua ragazzi dai ci siamo quasi chiaramente mano mano che si stringe il pezzo dobbiamo un attimino fare qualche piccola manovra però non è un problema ok adesso mi giro riuscendo giù eccoci qua ragazzi ci siamo quasi dai ancora qualche passaggio abbiamo finito di falciare la nostra erba ecco devo andare a comprarmi anche la vasca per fertilizzare devo andare a prenderci le seminatrici la piantatrice insomma dobbiamo andare a comprare un po' di roba ancora ci mancano un sacco di trattatura ecco e per fare questo ho pensato subito di mettere in moto la vasca dell'insilato in modo che così andiamo a recuperare qualche solito chiaramente non vorrei non vorrei chiedere prestito volevo cercare di fare tutto come si dice ragazzi con l'olio di gomita non rimbocandoci le mani speriamo di riuscirci se no se proprio essi andrà a chiedere qualche piccolo prestito però ecco io spero di no ragazzi spero di avere sempre qualche possibilità di fare qualche soldino ecco di organizzarci con l'insilato organizzarci magari con qualche altra cosa vediamo un attimino vediamo facendo il gameplay cosa possiamo fare per portare sempre comunque qualche soldino a casa ci si organizza anche chiaramente con il conto terzi sono piccole entrate anche quelle ragazzi ok ci dovremmo essere ragazzi ci dovremmo essere c'è qualche ciuffetto qua e là da tagliare un attimino però non penso che ecco tipo questi qua e non li ho presi neanche a morire vediamo se li prende adesso si si adesso me li ha presi però vabbè è chiaro che ragazzi non è che posso stare qui insomma sono piccoli ciuffettini non penso che sia un problema ok quello l'ha tagliato vediamo vediamo veloce veloce vediamo un attimino se non me lo fa tagliare ah si questo pezzetto qua me lo fa tagliare ok perfetto io direi che ci siamo ragazzi dunque possiamo tornare in fattoria andiamo appoggiare la nostra farciatrice e vediamo di incominciare a fare qualche andana con il allora allora questo lo portiamo in fattoria eccoci qua ecco poi magari ci andremo a organizzare anche con un pulivapo chiaramente volevo cercare qualcosa di olio magari la canna dell'acqua vediamo un attimino ragazzi vediamo un attimino perché comunque una pulitina ai nostri mezzi ci vorrebbe ragazzi allora adesso adesso riesco ad entrare piano 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 ok ci siamo bene questa la lasciamo qua ci attacchiamo all'anilatore ragazzi e cominciamo a organizzare le andane perché poi andremo a raccogliere ok allora tiriamo su via ritorniamo in campo ragazzi ecco io parto anche da qua al massimo facciamo il bordo e poi vediamo un attimino come organizzare allora gli spieghiamo lo accendo lo abbassiamo vediamo un attimino ok perfetto un piccolo bordo però allora aspettate un attimo ragazzi mi sta venendo il dubbio ci conviene passarlo dall'altra parte perché poi devo passare devo passare con il calzone da carico non vorrei andare a stringermi troppo dunque facciamo l'andana da questo un po' più all'interno diciamo ecco perché qua probabilmente avrò qualche problemino a raccogliere dopo ci conviene passare così un po' più all'interno ok sì tranquillo magari se andasse anche un po' più piano sarebbe meglio niente a 200 euro ragazzi ecco facciamo momentaneamente il bordo poi la riprendiamo chiaramente al contrario gli facciamo l'andana vediamo se riesco questa qua riprenderla un attimo oh perfetto quello che volevo fare ragazzi così stiamo all'interno, vabbè quel pezzettino al massimo lo si raccoglie ok adesso devo praticamente girare al contrario in modo che andiamo a fare nuovamente la nostra andando a ingrossarla un po' di più ok perfetto ci passiamo ecco qua quello che volevo fare ragazzi ci passiamo di fianco così la andiamo a ingrossare un po' di meno più o meno eccoci qua ecco poi tenete presente che probabilmente sto campo vediamo un po' probabilmente non è anche fertilizzato 50% ecco manca la calceviva manca la lattura insomma mancano tutti i passaggi è chiaro che il raccolto va un attimino a impoverirsi diciamo così ecco ok il nostro aborto l'abbiamo fatto io direi che si può cominciare anche a salire a facciamo sto pezzettino qua non uscire troppo ok eccoci qua perfetto ok adesso io direi che ci mettiamo là e incominciamo a farlo ragazzi io direi che siamo avanti a venguinare ok in strada non andiamo in strada allora aspetta ok via possiamo fare anche una roba del genere la storia diventa armato a fare manovre ragazzi facciamo una roba del genere via dai atto l'importante è aprire l'andana poi ok perfetto ragazzi anche il nostro raminatore funziona alla grande come vedete quella quella torniamo un pelino indietro così si riparte dopo chiaramente ci dobbiamo organizzare per raccogliere tutto speriamo di riuscire a fare un po' di roba ragazzi bellissimo io quando sento che sforza un po' in salita ragazzi è uno spettacolo ok adesso riscendiamo ok via sì poi è chiaro che ragazzi usando questo tipo di attrazzatura ci vuole un po' più tempo però insomma ecco ecco anche un altro perché ho scelto sta mappa ragazzi avendo campi piccoli ce la possiamo giocare ok apri un attimino l'immagine così vedete io penso di andare alla grande ragazzi penso che stiamo facendo un bel lavoro vai ok perfetto passiamo giù nuovamente via ecco perlomeno facendo così ragazzi andiamo a ingrossare un po' più l'andana perché se no veramente facciamo delle piccole striscette ragazzi ok ci siamo e bisogna fare un po' di manovrino a meno che non facciamo un'altra roba si potrebbe anche fare il giro e partire dalla parte opposta vediamo un attimino ok perfetto leggo C6 abbassa nuovamente che si riparta per rimanere chiaramente vicino all'andana che abbiamo creato quando stavamo salendo ok torno un po' di manovrino indietro ok via giù questo riparte subito vai ok 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 ragazzi finiamo di fare le andane poi cominceremo con l'accolta così ci mettiamo subito qualche piccola risorsa da parte per andare avanti con i nostri acquisti ragazzi perché sì qualcosina abbiamo ancora però ragazzi dobbiamo mettere in conto che dobbiamo comunque andare avanti con gli acquisti e comprare anche qualche campo ragazzi perché la cosa importante per mandare avanti da farmi alla fine della fiera sono i campi che ci danno la possibilità di fare dei soldini dunque dobbiamo acquistare anche qualche campo perché noi abbiamo solo questo dove sto lavorando io adesso non ne abbiamo altri campi dunque gli altri li dobbiamo acquistare sì ho visto che non costano tantissimo però insomma se mettiamo tutto in conto cominciamo campi cominciamo ancora le attrezzature i soldi fanno molto in fretta andare via ragazzi dunque ho detto mi organizzo un attimino una piccola risorsa visto e considerato che abbiamo questi campetti d'erba facciamo un pochino di insilato perlomeno 4 soldini li andremo a fare anche perché questo ragazzi per rimanere in tema ma anche nella realtà se voi andate a fare delle piccole ricerche su internet il vecchio insilato l'insilato dei poveri chiamato così l'insilato dei poveri si faceva dall'erba ragazzi perché prima non c'erano i soldi per comprare la semenza per il mais e tutte queste cose qua dunque il vecchio contadino si aggiustava a fare l'insilato anche dall'erba e prima ragazzi bisognava arrangiarsi in tutte le maniere oggi come oggi abbiamo tutte le comodità sia a livello di mezzi sia a livello anche nei campi ormai i ragazzi nei campi ci abbiamo tutto quello che ci occorre oggi è l'agricoltura probabilmente non è facile a livello di costi quello sì sono d'accordo perché purtroppo è la realtà dei fatti molti contadini si lamentano che i prezzi stanno arrivando alle stelle come il carburante e tante altre cose però è anche vero che oggi l'agricoltura è un po' più facilitata rispetto a tanti anni fa ecco questo questo dobbiamo guardarlo purtroppo purtroppo ci sono dei costi eccessivi quello sì a livello di macchinali a livello di mezzi purtroppo sì veramente oggi come oggi comprare un trattore insomma non è un passo facile ragazzi secondo il trattore che si va a prendere parliamo anche di 300 400 mila euro di trattore poi è chiaro che uno va a prendere i mezzi in base la terra che ha in base ai campi che ha se è oggi un contadino singolo ragazzi come sto lavorando io così probabilmente gli conviene più affittare i menti andare per conto terzi anche perché poi ci sono varie modalità di conto terzi io ho conosciuto uno in fiera ragazzi che ha dei terreni e ha una bella mi diceva che c'è una bella stalla di vacche e lui si dedica più all'allevamento che gli conviene di più c'ha qualche terreno in giro per la sua cascina e mi diceva io ho trovato un accordo con l'incontro terzi che quando i campi sono pronti lui viene a tagliare la roba quello che chiediamo se lo facciamo metà a metà ecco poi bisogna vedere gli accordi che si trovano oppure c'è quello che va affitta il macchinario e se lo fa lui però invece di comprarlo lo affitta ecco ci sono vari contratti ci sono varie modalità di come eseguire i raccolti con i macchinari perché crede come oggi comprare un mezzo non è per niente facile ragazzi i trattori costano una cifra le trebbie costano una cifra ripeto il contadino singolo fa sicuramente molta fatica per quello oggi esistono i compotezzi conviene sicuramente affittare più macchinario che andare a comprare io vi ho fatto l'esempio di questo signore che ho conosciuto in fiera che mi spiegava alcune cose tra l'altro gentilissimo che io direi che siamo a posto spegniamo chiudiamo tutto e mi spiegava un po' le situazioni di oggi come gestire una fatta di tutto quanto veramente gentilissimo tra l'altro dalle parti del Bresciano io ero in fiera a Cremona sono attraverso questa fiera agricola e l'ho beccato lì e ci siamo messi un po' così a parlare e mi spiegava un po' le situazioni che se oggi non hai veramente di grossi campi per fare dei raccolti belli e comunque ammortizzare tutte le spese conviene non conviene neanche più comprare i mezzi questo mi diceva ok perfetto ragazzi ci prendiamo il nostro cassoncino da carico e ci organizziamo per raccogliere l'erba così la andiamo a mettere nella nostra trincea ok andiamo ecco proviamo a raccogliere questa allora ok via si parte ragazzi si sta raccogliendo perfetto ecco ragazzi notare sto cassone bellissimo che a differenza di tutti gli altri cassoni che diciamo il raccoglitore ce l'hanno davanti questo ce l'ha dietro infatti mi ha catturato un po' l'attenzione su questa cosa qua ho detto si andiamo a prenderlo che fa a caso nostro piccolino chiaramente ci sta la grande ragazzi ecco io adesso mi faccio prima tutto il bordo tanto si sta già riempendo ragazze pulino chiaramente si riempie subito vediamo in salita il nostro fiat se ce la fa allora allora aspetta un attimo perché meno lasciamo roba in campo è migliore dunque mi metto bene per fare la curva ok ok perfetto perfetto eh beh chiaramente è un po' in salita lo senti però dai ci sta ci sta via facciamo un secondo giro poi andiamo a raccogliere tutte quelle che ci sono in mezzo ragazzi io sento il sound del fiat è uno spettacolo specialmente ragazzi quando siamo in salita veramente ok 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 allora andiamo verso quella torta lì per un attimino adrizzarmi qua siamo quasi pieni eh ragazzi adesso andiamo a fare il primo scalico mamma mia senti senti come sforzo ok io di 99% andiamo a scaricare ragazzi dai eccoci allora allora dobbiamo andare eh in pratica nella trincea della stalla delle mucche perché fa della stalla delle mucche ma non momentaneamente ce la usiamo per vendere il nostro insilato eccoci qua ragazzi ci siamo la cosa bella che non devo stare a fare manovra in quanto c'è la strada che mi mi dà la possibilità di uscire ecco la qua la piccola trincea allora ok cominciamo a depositar ecco poi si trasforma in pula sì poi chiaramente devo dare a compattare però insomma quello ci pensiamo dopo ok ecco abbiamo la possibilità di questa bella stradina chiaramente non stiamo neanche a fare manovra studiata bene studiata bene ragazzi veramente una bella cosa questo ecco io devo per forza entrare un attimo in strada cercare di raggiungere il nostro campo ecco tanto è qua ci siamo nuovamente eccoci qua ragazzi ci siamo ci siamo allora ok ah no c'è prima quel pezzettino là da fare eccoci qua ok io dove vedo passo ragazzi se riesco a raccogliere la cosa potuto chiaramente più ne mettiamo meglio ragazzi più ne mettiamo meglio via riprendiamo le nostre andane eccoci qua via si riparte ecco faccio le andane adesso ragazzi poi magari tutti chiamiamoli così quelle chiazzette che vediamo sparse andiamo a recuperarle adesso mi porto avanti con gli andane ok via sì penso di andare a fare due carrelli forse qualcosina chiaramente non faremo molto ecco poi magari sto campo qua andrano a trattarlo come dio comanda in modo che così la prossima volta magari abbiamo un raccolto molto molto più bello bisogna fertilizzare bisogna ararlo dargli la calce insomma chiaro che è questo ce lo usiamo sempre per quel discorso lì ragazzi per l'erba visto è considerato che è nato così lo teniamo così poi gli altri campi li andiamo a comprare ragazzi per un campo d'erba ci conviene sempre tenerlo per piena ragione per quando avremo i nostri simpatici animali le mucche le pecore ecco un campo d'erba mi conviene sempre tenerlo ci abbiamo questo vicino casa ci teniamo questo lo so lo so che fai un po' fatica però bellissimo ragazzi è uno spettacchio poi vabbè non è che faccia questa grandissima fatica voglio dire se la gioca abbastanza bene dai non posso dire niente ragazzi tanto di cappella al nostro fiat tanta roba ok via solipat ecco adesso andiamo a scaricare vi dicevo due cavelli e qualcosina più o meno ok andiamo a scaricare ragazzi nuovamente ecco qua ecco qua abbiamo questo fienile dove andrò a mettere la pagna andrò a mettere il fieno dobbiamo sistemare chiaramente anche un silos che ho già trovato ragazzi poi lo andremo a vedere non lo metto oggi lo metterò nel prossimo episodio ecco qua poi devo organizzarmi per compattare eccoci mi sto costruendo questa piccola risorsa che ci permetterà di andare a fare qualche acquisto ragazzi basta non scarichi più no come mai me lo scarichi a erba ai 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 non so cosa è successo qua ragazzi non ho idea cosa mi è successo qua come mai me l'ha scaricato a erba e non a pula vabbè poi andremo a vedere ragazzi non ho idea al massimo la tiro via quella lì probabilmente non devo andare troppo avanti nella trincea non è il massimo però vabbè piccolo no non torno indietro torno indietro mamma mia perché tutti adesso arrivano posso grazie non so perché mi ha fatto quel problema lì ragazzi però vabbè poi vediamo come si suol dire dietro le quinte vedrò di mettere apposta un po la cosa non è un problema dai magari cerco di stare un attimino più indietro adesso allora via incolliamo queste piccole andane che sono rimaste eccoci qua ragazzi abbiamo fatto anche oggi un bel laborino sono sono partito ho iniziato a organizzarmi anche questa nuova farm grazie ripeto vi ringrazio tantissimo perché ho visto tante visualizzazioni nel primo gameplay e questo mi fa molto piacere ci sono state due nuove iscrizioni al canale e questo mi fa ultra veramente piacere ragazzi vi ringrazio di cuore siete veramente fantastici mi state aiutando a far crescere il canale e mi fa molto piacere che questa cosa qua la state apprezzando questa nuova serie la state apprezzando ecco ho voluto un po cambiare ho voluto un attimino fare qualcosa di diverso e insomma portare anche un attimino i nostri nonni vedere un po come si lavorava una volta ecco più o meno è chiaro che poi tutto non è possibile ragazzi però insomma là dove posso permettermi di farvi rivivere un attimino i vecchi tempi lo faccio molto volentieri ok ragazzi raccordiamo un qualche piccolo qualche piccola piazzetta poi vado a scalicare perché con i tempi ci siamo raga vi ricordo che sto facendo gameplay dunque devo osservare chiaramente i tempi non è come la live che si possono fare tante ore anche se io non ne ho mai approfittato io massimo che faccio sono un ore mentre ragazzi anche sulla live tra l'altro ieri abbiamo fatto la live con gli utenti ragazzi ci siamo divertiti tantissimo io ve lo rinnovo anche qua qualora volete partecipare noi andiamo in onda il lunedì e qualche volta andremo in onda anche il giovedì ecco potete contattare sia me che lo stesso Pietro lo bianco perché la portiamo insieme e farvi entrare non è un problema ci sarà da scaricare cose piccole a modo non sono tante vi sarà fornita una password perché giochiamo da server privato e chiaramente qua io ho finito possiamo andare no ce ne sono altri due veloci veloci andiamo a prendere quelle due chiazzette lì e una volta che avete tutto questo potete venire a giocare la live dura un'ora massimo un'ora e mezza non di più e niente andiamo in onda dalle ore 21 massimo 21 e 30 calcolate un'ora 10 e mezza abbiamo finito 10 e mezza massimo le 11 abbiamo finito allora finiamo su tutto qui andiamo a scaricare ok il nostro bel lavoretto l'abbiamo fatto anche oggi ragazzi ecco non so perché mi ha fatto sto lavoro però poi lo andrò a scoprire in pratica là mi ha messo solo erba ragazzi invece di scaricarmi la pula ok andiamo a scaricare qua ecco qua vedete mi scarica la pula e là invece mi ha scaricato l'erba vabbè fa niente al massimo la tiro via ecco andiamo indietro ecco non ci passo sopra per evitare di andare a espandere così la porto via direttamente quella quella no no ti devi adruzzare dritto non storto ok vediamo un attimino cosa hanno fatto veloce veloce ragazzi quanta roba abbiamo messo su poca roba 27920 però dai al massimo facciamo un po' di soldini anche con questa poca roba l'importante è portare qualcosa a casa ok ragazzi perfetto io mi fermo qua perché con i tempi ci sono spero che il gameplay vi sia piaciuto come sempre vi invito a mettere un bel pollicione all'insù e iscrivetevi sempre al canale che mi state dando una grandissima mano mi raccomando quando vi iscrivete al canale ragazzi attivate la campanella in modo che ogni qualvolta io sono a fare un gameplay o sono a fare una live vi arriva la notifica iscrivetevi nel canale di Crazy Brothers su Facebook e niente ragazzi io vi ringrazio tantissimo per i risultati che ho visto ieri nel canale visualizzazioni vi abbraccio e chiaramente nei commenti iscrivetevi quello che vorreste fare in questa nuova serie un abbraccio da Marcello Gaming 68 ci sentiamo alla prossima ciao ragazzi ciao buona giornata